Si continua a discutere del registro dei tumori, intanto continuano le campagne di prevenzione organizzate con consapevolezza e lungimiranza dalle associazioni impegnate sul territorio. Un'opera di coinvolgimento e informazione rivolta ai cittadini attraverso numerose attività, tanto che sono state diverse le donne che hanno risposto all'invito della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Prima giornata all'ospedale Santimotio di Termoli, con le visite gratuite in ambulatorio dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Dare un'informazione corretta su come deve essere eseguita la prevenzione, perché spesso e volentieri o si eseguono esami incongrui o non si eseguono affatto. Lo scopo di queste giornate è proprio quello di dare un'informativa corretta su questa situazione. Sono diverse le iniziative organizzate dalla sezione provinciale di Campobasso, guidata dal dottor Giovanni Fabrizio, nell'ambito dell'ottobre rosa, attivi punti informativi dove i volontari Lilt distribuiscono puscoli sulla prevenzione oncologica e i nastri simbolo dell'evento. È una bella iniziativa e per noi donne è importante avere una giusta prevenzione, soprattutto in campo della mammella e perciò ho deciso di partecipare. Mi ha parlato anche con le sue amiche? Sì, 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 infatti mi è stato riferito addirittura io subito... C'è un passavarola? Sì, 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 sì. Meglio prevenire che curare, purtroppo tanti casi che ci sono stati anche recentemente, quindi ho preferito farmi il controllo. Gli appuntamenti con le visite continuano all'ospedale Cardarelli di Campobasso tutti i mercoledì di ottobre e alla Rino domenica 27.